Salve a tutti cari amici telescoltatori, quelle robe là. Allora vorrei dire solamente due cose. La prima che il periodo sabatico che abbiamo passato noi qua della schizzo è finito. Da oggi ci metteremo a lavorare a nuovi tributi, soprattutto a quello ai Jonas Brothers sulla canzone S.O.S. che si chiamerà invece Siamo Sceni Sessualmente, appunto S.O.S. E poi faremo delle scenette come caricheremo o stasera o domani sul canale per farvi vedere un po' cosa si fa in questo mondo. Ci vediamo sulla scena alla prossima. Grazie.